Abbiamo con noi ospite a Radio Sound Piacenza 24, Ivo Bussacchini, segretario generale CGL Piacenza. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Siamo vicinissimi al primo maggio e anche a Piacenza, sono diverse le iniziative in programma. Sì, quest'anno riproponiamo il nostro primo maggio unitariamente, CGL Cisui, la Piacenza e nel comune di Monticelli dove anche lì c'è una storica iniziativa sul primo maggio con cortei, sfilate, deposito di corone ai caduti e ai lavoratori e poi avremo in piazza Cavalli specificatamente gli interventi dell'Anil, dell'Arci e poi faremo una tavola rotonda con segretari generali sul tema preponderante che è i 75 anni della Costituzione italiana fondata sul lavoro. Il tema del lavoro è un tema sempre molto caldo, poi sembra quest'anno più che mai dopo la decisione del governo, proprio il primo maggio, di varare il nuovo decreto lavoro. Lei cosa ne pensa? Guardi, mi augurerei che venisse affrontato il tema del lavoro in modo un po' meno propagandistico e non solo il primo maggio, perché bene tutti gli interventi che vadano nella direzione di migliorare le condizioni dei lavoratori e lavoratrici temo da quello che siamo in grado di capire, perché non abbiamo avuto nessuna convocazione dal governo, che i contenuti di questi decreti siano ahimè peggiorativi rispetto soprattutto a un grande tema che è la precarietà con la prolungamento dei contratti a tempo determinato. Questo non è il massimo. E' la cosa che vi preoccupa di più dalle anticipazioni uscite sul decreto lavoro? Per quello che siamo a conoscenza, diciamo così, ripeto, non essendo stati convocati, sì, perché al di là di farlo il primo di maggio occorrerebbe investire sul lavoro da un punto di vista generale non solo dell'impresa, ma per la tutela dei lavoratori e lavoratrici. Se pensiamo alla precarietà, purtroppo alle morti bianche sul lavoro, c'è ancora tanta tanta strada da fare, sulla quale noi saremo sempre in prima linea per indicare condizioni migliori. C'è poi il grande tema del reddito di cittadinanza che sarà abolito, sarà cambiato dal decreto lavoro in futuro e c'è la preoccupazione degli over 50 nel rinserirsi nel mondo del lavoro che appare veramente troppo difficile, troppo distanti dalla pensione e ormai troppo anziani per poter fare un nuovo lavoro. È un tema molto complesso, innanzitutto mi preme dire che anche se ci sono state distorsioni, il legislatore ha mancato nel realizzare definitivamente il pensiero del reddito di cittadinanza, cioè trovare lavoro le persone, tant'è che noi abbiamo sempre sostenuto che non si trova lavoro per decreto, bisogna costruire le condizioni per che l'economia migliori, eccetera, eccetera, attraverso altri interventi. La gente ha chiesto l'RDC perché era stato mescolato in uno schema di supporto sociale, ripeto, è mancato l'altro pezzo. Secondo me ci sono modalità e tipologie diverse dentro di questi percettori dell'RDC, nel senso che ci sarà sicuramente qualcuno che può lavorare, qui a me viene un grande tema da discutere, il tema del pensionamento e del pensionamento in questo paese, perché si è troppo giovani ad andare in pensione ma troppo vecchi per stare dentro le aziende e allora delle due una mi verrebbe da dire da questo punto di vista. C'è un grande tema però che in questo momento dove c'è una grande povertà, l'intervento del governo va a restringere le maglie dei più deboli, mi permetta di dire, c'è un grande tema in evaso da tempo in questo paese che è una grande evasione fiscale su cui occorrerebbe intervenire per recuperare risorse più che colpire i più deboli, ecco la dico così. Insomma i temi sono davvero tanti in questo primo maggio, intanto ormai prossimo, intanto la ringraziamo per essere stato insieme a noi. Grazie a voi, grazie davvero. Ospite di Radio Sampio 10024, il segretario generale CGL Piacenza, Ivo Bussacchini.